il reparto frutta banane 73 centesimi al chilo qui abbiamo il mango 74 centesimi al pezzo ananas 170 centesimi al sacchetto 60 centesimi peperoni 3 per 82 centesimi anzi sono 3 colore una cassettina di uva 3 pound pomodorini 75 centesimi al sacchettino sono quanti grammi sono saranno 300 grammi 350 cosa possiamo vedere cucumber che in italiano è cetriolo 43 centesimi al pezzo la fruga iceberg 43 centesimi al pezzo vediamo questo lato unghie quelli da forno da riempire sono un po' da 4 pezze 5 altrimenti questi qua piccolini 300 grammi 79 centesimi capolpiore capolpiore al pezzo 79 centesimi altrimenti questo un broccoli 46 centesimi al pezzo questa è una zucca un panno al pezzo le truffine 2 al chilogrammo carote 40 centesimi al chilo bel sacchettone di carote 40 centesimi melenzano melenzano un po' carucce sentata centesimi al pezzo andiamo avanti andiamo a vedere quell'altra zona un po' carica e la doni sconto e la doni sconto 16 pounder al pezzo e la doni sconto sono da tavolo 12 a 50 altrimenti abbiamo i televisori questo qua è sconto non è sconto è a 399 chi ha la carta club card è 389 50 pollici altrimenti questo 43 pollici 349 no 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 tanto per dirne una questa è conseguenza brexit un po' come dire un po' le mezze di monte cereali di ruttidepe un pound e 50 uno e 90 due e 50 anche un pound molti ops un pound un po' le mantro un po' le 43 centesimi cirios cirios due pauli della casa un po' le 50 caffè da macinare 3 4 e 10 3 e 50 3 e 50 3 e 50 3 e 70 lavazza lavazza macinato 10 sterline 10 pound espresso lavazza 17 e 50 tè di tutti i tipi da media sono 2 pound latte condensato 70 centesimi 1 pound 50 centesimi biscotti 45 centesimi un pound un pound a media a poco del biscotto vediamo gli scappali ancora fuori scappali vuote scappali vuote patate alla cipolla 88 centesimi pringles di tutti i tipi a 2 e 50 questi sono nuovi 3 pound questi sono quelli vecchi 1 e 50 1 e 50 1 e 50 1 e 50 questo è il reparto squash questi sono dei succhi da diluire con l'acqua praticamente con una bottiglia di questo si fanno una decina di litri di succo 2 pound 2 pound uno patatine ancora multipack sale aceto e formaggio un po' del 50 queste qua sempre multipack 99 cheese 80 centesche queste 6 pacchetti 2 sono sale 2 cipolla scappali vuoti ancora scappali vuoti situazione non proprio delle migliori qui in inghilterra tutto vuoto questa cosa è birra birra 1,50 la bottiglia 1,20 vediamo quelle italiane dove sono quelle italiane qua c'è qualcuna italiana la strada dell'artuà 1,69 Heinecke 1,69 casse a Moretti 1,2 pound adesso è sperato 2,60 il bottiglione bello grosso bello grosso birra muretti questa di qua 6 pound bex 13 sterline la cassa corona 11 sterline acqua di tutti i tipi perché qua in inghilterra l'acqua non deve mancare ma non è sanse tutto ci sono molte sezioni vuote vuoto 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 i prezzi i prezzi variano molto non meno di 4 sterline dipinto alle forme in inghilterra con il valore mezzin AK% pane vuoto 95 centesimi 99 sezione vuote vuoto vuoto cornetti pacco i cornetti 8 95 centesimi oppure questi che sono pain chocolate 95 centesimi sezione pane ancora scappa gli mezzi morti questo del qua bello grosso un pound e 15 già fettato oppure panini 70 centesimi questo 70 72 tranne questi che sono a formaggio un pound la 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 Sono queste, 1,69 uova, sono uova da 12, free range, che delizio, pasta penne da mezzo kg, 29 centesimi, spaghetti 20, poi abbiamo questo tipo di pasta pesco, vari formati, 53, 53 centesimi, anche la lasagna, pasta parilla, 1,20, napolina, un pound, De Cecco, 1,55, questa è buona, l'ho provata, è di grano duro ed eccezionale. Da quest'anno si possono trovare anche le orecchiette per inghilterne, 1,15, gli gnocchi, 30, la bollenza 75, salse, salse di tutti i tipi, pesto, 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 maggiore,etto, fagioli, 22, 30. fagioli con salsa non sono male tipici inglesi un gavione, farli vedere, preparati in scatola 1,10 questo è cosa? spaghetti con salsiccia 70 centesimi spagetti pronti al lutto, tagliate 35 centesimi 8 lup di anelletti siciliani 35 centesimi fagioli con salsiccia 1,10 maio maio dai 69 centesimi a un massimo di 2,50 sono bottiglione formato famiglia salsa, 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 2 pound 1,50 pound questa è 48 centesimi sour cream che è cammino? continuano un pound 2 piccoli 61 centesimi pastirella Enzo le 80, le 80 pomodori pelati 28 centesimi 42 cirio, cirio 3,50 4 barattole fagioli e legumi di tutti i tipi olio di oliva olio di oliva 6 pound quello buono 3,50 sempre buono 4,50 con la crema e la secca o questi sembrano sembrano più olio di semi che olio di oliva loro dicono un litro 3,40 scotte 6 pound il patto grosso ma che si va a fare vuoti quindi adesso perdono i litri ridato le 70 o le 50 col vato un piccolino sono 350 grammi al peso e al peso questo ad esempio è 16 e 27 2 kg e 327 gravi anche i bisogni, maiali, 2,44, 3 pounds, 3 pounds hamburger sausage, salsicce, di ogni genere latte bottiglione quant'è? 2 litri, 272, solo 1 pound e 9 in Italia un litro di latte costa più di un euro qua 2 litri e mezzo, 1,10 euro guardate questo 3 litri e 4, ne bevono poco latte in inglese 1,50 sono 1 euro e 70 centesimi 4 litri e mezzo di latte noi andiamo a pagare ciao a tutti